Musica Eeeh Benvenuti ragazzi, sono Eric's Max e benvenuti in questo video Possiamo trovare qua in un video leggendario ragazzi Perché oggi siamo qua per maxare un nuovo brawler Come avete detto dal titolo, oggi il brawler in questione è Sandy Sandy ragazzi che è un brawler OP, OG e in Tired S Quindi ragazzi è fortissimo E oggi andremo a portare all'unice, scioperemo l'overdrive e anche l'abilità stellare che la ulti fa danno Prima di tutto però vi chiedo un like, un'inscrizione, una campanella Condividete il video tutti i vostri amici Seguitemi su TikTok e su Discord Quinto settimo link in descrizione Sesto link in descrizione per dare il mio server Discord Primo link in descrizione per abbonarvi Secondo link in descrizione per comprare i miei t-shirt Personalizzate edXmax Terzo link in descrizione per fare una piccola donazione E quarto link in descrizione per seguirmi sul sito Viola Mi raccomando mettete tutti il codice creatore edXmax Su Fortnite, Epic Games e anche su Squadbusters, Supercell Comunque ragazzi c'è tutto scritto in descrizione E da questo ragazzi oggi ragazzi andiamo a spendere quasi tutte le mie monete Però per fortuna ragazzi il pass opening è solamente dei start drop Quindi possiamo andare a ritirare le monete che ci sono nel pass Solamente mille, ok no, altre mille Qua che sono molto molto comode I punti di energia non ci servono, li prenderemo in un prossimo video Oggi ragazzi è dedicato a Sandy Dopo il video di ieri dove ho shoppato questa skin leggendaria di Sandy Sandy da Incubo Oggi siamo qua per continuare come vi ho detto ieri i video di Sandy Perché ieri vi avevo avvisato che il giorno nuovo sarebbe uscito questo video Ed è uscito perché io le promesse le mantengo Questi video leggendari però vi chiedo solamente un like E da questo andiamo a migliorare Sandy al livello 11 con E poi andiamo a prendere questa qua che è la tempesta di sabbia Inflige anche 194 punti danno al secondo ai nemici E poi ovviamente andiamo a prendere l'overdrive Fortissimo e leggendario di Sandy per me è l'overdrive più forte Dato questo ragazzi andiamo a portare Sandy all'11 ragazzi Sandy al livello massimo Ora ragazzi però dovremo andare a spendere 5k monete per l'overdrive ragazzi 5.000 monete, 20 tempestosi e poi altre 2.000 per la vita stellare Overdrive di Sandy, 20 tempestosi, sbloccato Sono contentissimo ragazzi perché è un overdrive fortissimo Potremmo usarlo in rank e provare ad arrivare a leggenda 1 Poi ci saranno prossimi video in cui andremo a migliorare tanti brawler differenti Oppure andremo a shoppare tante abilità stellare e gage differenti Ma volevo fare questo video per Sandy perché è un brawler illegale E finché non lo abbassano di forza io lo devo ottenere Ora ragazzi andiamo a prendere pure l'abilità stellare La tempesta di sabbia infligge anche i 206 cimunti danno al nemico Quello che cura non è così forte, si è, è molto comoda Però preferisco questa qui io Abbiamo preso pure l'abilità stellare Ora ragazzi andiamo a provare Sandy con l'overdrive Ovviamente ragazzi i gear non li prendo perché per me è uno spreco Spendere quando non hai abilità stellare, quando non hai overdrive, quando non hai gadget Spendere monete per i gear per me non è molto intelligente Quindi ragazzi io lo tengo così Sandy con l'overdrive, con il gadget Tutti e due però vabbè li ho trovati Preferisco questo qui che stunna L'altro che cura è molto comodo però preferisco questo Prima quando ragazzi non c'era questo qui che stunnava utilizzavo l'altro Però adesso che c'è questo qui che stunna prendo questo Perché quello che cura è molto comodo E poi questa qua ragazzi abbiamo tutto 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 quello che ci serve Ora ragazzi andiamo a giocare in food brawl con Sandy Andiamo a provare pure le mappe, quelli che non ci fanno perdere coppe Così siamo ancora più tranquilli, possiamo pensare non a vincere Ma a provare l'overdrive perché devo farmi l'overdrive Sono troppo contento perché Sandy è molto molto comodo Quando io gioco con Ranker spero sempre di trovare uno che ha Sandy all'unice Ora ce l'ho però io quindi non ho più questo problema Sono troppo contento Abbiamo trovato uno che gioca con Bombardino Non vedo uno che... Io ragazzi ci gioco in live ogni tanto per il meme Vabbè cerchiamo di non prendere gol Ammazziamo Beryl Questa unità qua mi ha fatto un danno che mi dà molto fastidio Potremmo andare a utilizzare la ultima Io direi che questo gadget di Bombardino è molto comodo Grazie Bombardino Perché comunque mi fai recuperare un bel po' di vita Possiamo andare a mettere una ulti verso di qua Così che l'orso non mi rompe più le scatole Lo indebolliamo Mamma mia ragazzi è molto forte Sandy Oppure l'overdrive è troppo forte Abbiamo già l'overdrive dopo 6 colpi È già l'overdrive è fortissimo Non mi ricordo quanti gol ma pochissimi ragazzi è troppo forte Sandy Andiamo a fare la reazione di questa skin Ragazzi comunque veramente sto dedicando due video a Sandy perché è proprio un brawler Illegale Voglio farmi la ulti O voglio provare l'overdrive Però prima voglio tarmi sto orso qua mi ha rotto le scatole Mamma mia ragazzi Mamma mia Mamma mia ragazzi No è troppo bello È troppo bello ragazzi Ma ha segnato questo ragazzi È stato buono scarsunio Perché ero troppo veloce ragazzi Però vabbè non ce ne frega niente Andiamo a bloccare tutto Andiamo a mettere una ulti al centro Ma ragazzi sapete cosa me ne frega a me di Di perdere Tanto non perdo nulla tra l'altro se perdo Io voglio solamente provare la skin Veramente bello Che Leon c'è l'overdrive Io potrei anche utilizzare un bel giocheggettino Per non morire Abbiamo quasi lo vediamo l'overdrive C'abbiamo un altro Vi rendete conto che abbiamo già l'overdrive Abbiamo già l'overdrive E l'ho utilizzato 5 secondi fa L'overdrive è troppo forte No no ragazzi non prendiamo call Voglio provarlo Voglio provare l'overdrive Voglio provare l'overdrive No 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 ragazzi Volevo provare un'altra volta l'overdrive Vabbè ragazzi Andiamo a provare un'altra partita Non è un problema Scrivimi in voi nei commenti Se anche voi ragazzi Vi consiglio di maxare Sandy Veramente ragazzi Lo sto provando adesso in un secondo Ed è fortissima Quindi ragazzi Se non l'avete ancora fatto Maxate Sandy I gear Chi se ne frega di gear Non spendete monete per i gear Se non avete i brawler maxati O almeno al 9 Con almeno un'abilità stellare Quella migliore Se si può E il gadget E se c'è un brawler che è OP Con l'overdrive Ci ho fatto anche l'overdrive Io l'ho fatto con Sandy Ragazzi è troppo forte Certo sicuramente non vado a scioppare L'overdrive Perché non è che non lo uso tanto Il primo Però Sandy è illegale È un brawler che voglio portare al 25 E quindi ragazzi Ci tengo a farlo Io ragazzi Adesso non voglio segnare io Perché come sapete Io ragazzi tengo A provare la skin Non a vincere Certo in questo momento La ulti che mi curava Era molto più comoda Però ragazzi Guardate quanti danni fa Poi è molto comoda Perché tipo Magari in Arfagem Cioè ci sono i cespulli Tu metti la ulti E puoi vedere sempre Dove sono i nemici Quindi è molto molto forte Ragazzi Come anche come roba Abbiamo già l'overdrive Ragazzi Cioè è la partita iniziata 5 secondi fa Sì però ragazzi Vedo gli interni Poi rompere Caspita di Ok Andiamo a mettere Una ulti un pochino più in là Abbiamo avanzato già uno Cioè raga Vi rendete conto È troppo forte Troppo forte Cioè guardate Vado molto più veloce E tra l'altro Toggo anche dei colpi Con la ulti Con l'overdrive No ragazzi È troppo forte Stai che mi devo grattare la schiena Ok Andiamo a utilizzare un bel gadgettino Così blocchiamo tutti E vabbè Potremmo andare a utilizzare Anche una piccola ulti qua Per indebolire Ma per me non ce n'è bisogno Perché Ma sì che ce n'è bisogno Dobbiamo per forza metterla E adesso andiamo a indebolire Due broche Andiamo a bloccare la venita Abbiamo l'overdrive Di nuovo Abbiamo un botto Ragazzi stiamo facendo più overdrive Adesso che È in tutta la nostra vita Ragazzi È troppo forte Sandy È troppo forte È troppo forte Ragazzi Toglimi sto caspita di orso Sandy non è in grado Di togliere gli orsi Fa troppi pochi danni Ha una singola Ha un singolo Aspetta vai 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 Molto meno No ragazzi È troppo forte Overdrive Mamma mia Mamma mia Quanti 2250 Mamma mia Con l'overdrive Quanti fa la solo senza overdrive Aspetta che provo a vedere 1.800 ragazzi Fa Quasi 500 anni in più Ragazzi È illegale Sandy È illegale Andiamo a mettere una ulti qua Per Per indebolire Vediamo un pochettino Let's see Andiamo a passare il pallone Vabbè chi se ne feca Anche se lo passiamo male Vediamo un po' Regale Illegale 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 Dai 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 No 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 Devo fare un gadget Devo fare un gadget Devo fare un gadget Eh ragazzi Non ce l'ho fatta Non ce l'ho fatta in tempo Beh questa qui credo che sia vinta Mettiamo le mani avanti Però Però credo che sia vinta Abbiamo quasi un altro overdrive Cioè ragazzi Rendete conto che ho fatto Se faccio un altro overdrive Ho fatto tre overdrive In una partita Con Corvo Non ne fai neanche uno In una partita Se non fai tantissimi danni Ho un overdrive di nuovo Ho un overdrive di nuovo Questa qui Questa è la ulti La palla la butto avanti Adesso possiamo usare subito L'overdrive Perché ci può aiutare Cioè ragazzi Vedi quando vado anche più veloce E' un brawler Dove anche l'overdrive Può anche non utilizzarlo Per fare la No ragazzi Vabbè Ma quanto sono veloce Tutto grazie all'overdrive Se ho vinto Tutto grazie all'overdrive Se abbiamo vinto E' troppo forte E' OP Non è possibile Non è possibile 6-2 per noi Ragazzi È illegale sto brawler Con l'overdrive Mamma mia ragazzi Porta il 25 subito Sandy Lo facciamo in 3v3 Facciamo una live 3v3 In cui proviamo Giochiamo solo con Sandy Io ragazzi ne faccio un'altra Io ne faccio un'altra Perché mi sto divertendo E' proprio un brawler Che è bello da utilizzare Sandy con l'overdrive Con pure l'abilità stellare E il gadget Cioè è veramente illegale E' pazzesco sto brawler E' veramente pazzesco Veramente mi piace tantissimo Mi piace veramente tanto 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 Con l'overdrive L'abilità stellare E il gadget Ancora di più ragazzi Mamma mia Prima avevo solamente il gadget E non potevo utilizzare Adesso invece posso utilizzarla Quando caspita voglio C'è lo spike Fa tanti danni Sono morto tra l'altro Subito Bella la ulti Di Tick Allora bisogna giocare bene Bisogna giocare bene Allora Vediamo un po' Devo cercare di fare Qualche danno In più Perché sicuramente Allora questa Eh no ragazzi Però questa qui Si è proprio persa 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 Ok Sprecato la ulti Regà Ah no In realtà no Perché guardate ragazzi Come scappano Dalle mie ulti Perché se no Vado a morire Regà E' troppo forte E' troppo forte La ulti di Sandy Anche con l'abilità stellare E' troppo forte Regà E' troppo forte Vediamo un po' Ok Andiamo a bloccarlo Un attimo Andiamo a indebolire C'è la ulti Posso anche utilizzarla Per indebolire C'è un overdrive Perca Potrei anche provare Una cosa mistica Con l'overdrive No ragazzi Hai un'altra ulti Ma c'è un overdrive Il bro veramente Troppo scherzo No vabbè ragazzi E' troppo forte Ragazzi è troppo forte Sandy E' troppo forte E' troppo forte Ma quanto No ragazzi Ho fatto tutto da solo Ho fatto tutto da solo Andiamo a mettere una ulti al centro In the middle Non ho più Una delle gadget però No vabbè Un'altra ulti No vabbè ragazzi Non stai prendendo in giro Ho fatto due ulti Anche se non era giusta Quella ulti Non ce ne frega niente Ragazzi è troppo forte Sandy Sono troppo contento Per me è proprio Il più forte del gioco In questo momento Beh ovviamente Draco ragazzi È un brawler che Siccome ha fatto uscire L'ha fatto illegale però Ho già di nuovo quasi L'overdrive Ragazzi io non so come fanno A fare un brawler così forte Cioè io ragazzi Ogni volta che trovo Sandy contro Perdo L'overdrive Ma devo recuperare No ragazzi Ma veramente L'abilità stradale di Brock Quella lì che è la ulti E' più lunga E' fortissimo Veramente forte 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 Non è veramente possibile ragazzi E' troppo forte Andiamo avanti Potrei utilizzare L'overdrive subito Però ho paura che Non riesco a farmi la ulti In tempo Ma io direi che abbiamo vinto Andiamo a mettere L'overdrive La ulti Gigi abbiamo vinto Ragazzi abbiamo fatto Due overdrive In una partita Ragazzi Troppo bello Questo brawler Faremo una live Tra i ragazzi In cui vinceremo sempre Con Sandy Mamma mia Troppo forte Ragazzi vi chiedo un like Andiamo pure a aprire Questo atto rossa Drop rare Vabbè vabbè Non è un problema Vi chiedo ragazzi Quindi un like Un'iscrizione Una campanella Per questo video Leggendario Condividete il video Tutti i vostri amici Non mancare Dopo in live C'è scritto l'orario In descrizione Seguimi su TikTok Su Discord Quindi saldiamo Link in descrizione Sesto link in descrizione Per diventare Mi saver Discord Primo link in descrizione Per abbonarvi Secondo link in descrizione Per comprare Mi t-shirt Per saldere di Xmax Sesto link in descrizione Per fare una piccola donazione Quarto link in descrizione Per seguirmi sul sito Viola Mettete tutto il codice Creatore Ed Xmax Su Fortnite Big Games E anche su Squadbusters Grazie mille Codice creatore Ed Xmax C'è tutto scritto in descrizione Non mancare dopo in live C'è tutto in descrizione Non mancare dopo in live C'è scritto l'orario in descrizione E dato questo vi voglio bene Mi raccomando ragazzi Scrivetevi nei commenti Se anche voi volete maxare Sandy Il brawler che dovete maxare Se il servizio di maxare un brawler È maxare Sandy Perché è illegale ragazzi Ho vinto tutte le partite Tranne uno Vabbè la casa Perché avevo dei compagni Un pochino scarsun Però va bene ragazzi Abbiamo fatto tutto da soli Con Sandy abbiamo vinto Veramente troppo forte Prendete così Questa qua deve essere Deve essere così Il build Gadget tranquillanti Ulti tempesta violenta Che è bellissima Cioè gli avversari Non possono entrare nella ultima Che se non muori E poi vabbè L'overdrive è fortissimo Dato questo ragazzi Spero che vi sia piaciuto questo video Lasciate un like E ciao a tutti ragazzi Ieri è uscito il video In cui abbiamo cipato questa skin Se siete persi E oggi abbiamo maxato Sandy Due video dedicate a Sandy In due giorni Ma ci sta ragazzi Perché è un brawler fortissimo Forse in questo momento è il migliore Ciao ragazzi Vi voglio bene Ciao ragazzi